Ciao amici di Italia Top Games, stamattina caffè al volo, nonostante sia un giovedì festivo, è subito a farvi il filmato per le novità di PES 2019 e oggi ce ne sono parecchie. Si parte dai giocatori in forma, Ronaldo, Higuain, Imars, Alas, Suarez, Cross, Coutinho, Marcelo, Aubameyang, Douglas Costa, Vidal, Mertens che ha segnato il gol del pareggio per il Napoli, i pianici della Juve, Diego Costa, Mbappé, Pogba e tanti altri. Chi scende? Scende Oblak, Sergio Ramos, 5 gol contro il Barcellona, si fa sentire, anche Piqué scende, non so bene il perché, Benzema, Casemiro, c'è tutto il Real Madrid praticamente, c'è anche Belotti al Torino, Bernardeschi della Juve, Usai del Napoli, molto responsabile sul gol del vantaggio della Roma, Milik che hanno fatto una bella partita contro la Roma, indubbiamente, e tanti altri, Musacchio del Milan, Gervinio del Parma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, allora, andiamo a scoprire le novità di questa settimana, come vi ho detto sono tante, si comincia dai giocatori in risalto e ce ne sono abbastanza, 2, 4, 6, 18, 19, c'è tanto Boca Juniors perché c'è la gente proprio del Boca Juniors, poi ci sono molti giocatori di squadra spagnole, vedo Suarez, Godin, Iago Aspas, Mané del Liverpool, qui poi tanti giocatori appunto del Boca Juniors, c'è Nani, ex Lazio, c'è Pato, ex Milan, Sergi Roberto del Barcellona, De Jong dell'Ajax, Muriel e Vlap, Vlap non lo conosco. Allora, andiamo un po' a vedere, oggi ci sono anche nuove leggende, intanto mi becco i 1500 GP del bonus giornaliero che non ci dispiacciono mai, premi Pest League 17.000, sono in divisione 4, sono arrivato 8 con 14 punti, questa settimana ho viaggiato alla media di una sconfitta una vittoria, una sconfitta, una vittoria, dopo tanti pareggi niente più pareggi, comunque va bene, mi becco i miei 17.000 GP e ne sono felice. Eccole qua, le nuove leggende, Beckham, Rush, Daglish, Keegan, Oven, Viera, Fowler e Gerrard. Andiamo comunque a vedere nel dettaglio, allora c'è sempre il solito pool da collezione che è questo appunto delle leggende. Andiamo un po' a vedere profilo, 23 palle nere, 112 d'oro e 315 argento. Vediamo ancora i bersagli, giocatori che dovrebbero riguardare il campionato inglese, ma vedo anche Griezmann, Dodegea, Daglish, Kane, Beckham, Gerrard, appunto qui tutte le leggende, Untiti, Benzema, Euris, Bale, Cantè, Rush, Tamendi e tanti tanti altri. Il solito pool che, a me questo pool, ecco mi sono dimenticato di dirlo nel filmato precedente, questo pool non mi convince per niente, non lo trovo molto convincente. Andiamo a vedere gli agenti speciali invece. Allora c'è quello dei giocatori della settimana e poi quello del Boca Juniors, 100 monete d'oro, ognuno come sappiamo bene, 87% di prendere palle nere e 12% d'oro, quindi non sarebbe male. Chi abbiamo? Pavon, Barrios, De Benedetto, Gago, ah scusate vi faccio vedere i parametri come mi avete chiesto, eccoli, sono parecchio in crescita, soprattutto in abilità offensiva, se notate, anche in velocità da 90 a 97, questo Pavon davvero in versione IF è molto interessante, Barrios recupera la palla 95, molto interessante anche questa crescita, contatto fisico 90, Benedetto vediamo dove cresce soprattutto in finalizzazione da 84 al 91, Gago, 87-94 in passaggio alto, passaggio verso terra 93, Zarate, ex Lazio, 87, controllo palla 93, dribbling 94, molto interessante, Tevez, un altro ex del campionato italiano della Juve per essere più precisi, abilità offensiva 88, finalizzazione 87, Nandiez, spero che si lega così, un Andels, non lo so, vediamo, vediamo, cresce un po' in tutto, soprattutto in potenza di rompente, poi c'è questo Perez, che cresce soprattutto in abilità offensiva, però ragazzi un pochino sarei tentato da Gago e soprattutto da Barrios, però rispetto ai giocatori che ho in rosa non vedo grossi miglioramenti, quindi mi sa che questa settimana le mie monete d'oro me le conservo anche perché o la settimana prossima o quella dopo dovrebbe arrivare finalmente l'agente del Napoli. Allora qui ci sono addirittura palloni argento e vista la mia fortuna con le pescate temo che vada a finire così. Comunque Suarez, abilità offensiva 99, è qui un pochino la voglia di girare, di spendere 100 monete d'oro sale perché come punta Suarez è veramente illegale, come scrive qualcuno, finalizzazione 97, cioè Godin 90 e anche questo giocatore mi interesserebbe molto per la mia squadra, l'abilità difensiva sale a 96, Marchignos recupero palla a 92, Iago Aspas finalizzazione 93, abilità offensiva a 93, giocatore interessante, Maio Ciorgia, Bappé, Messi e Neymar e quindi mi interessa relativamente. Mané, potenza di rompimento 96, velocità 95, Nani controllo palla 91, dribbling 91, Alexandre Pato, sì, sale ma non sono numeri entusiasmanti, Sergi Roberto come terzino destro, cresce un po' in tutto, soprattutto passaggio alto 87, 5 in più, De Jong centrocampista 85, 86, 85, 82, una bella crescita, poi partiamo da un giocatore che parte da 84. Muriel, portiere, elevazione 85, contatto fisico 86, interessante ma è un portiere da 80. E poi Vlap, questo centrocampista che si vede crescere soprattutto a potenza di rompente, da 74, 80. Va bene, io lo faccio un giretto su questi players of the week, fossi fortunato a beccarne uno che mi interessa, ci proviamo, almeno posso dire di averci provato, dai Spagna, fammi vedere il campionato spagnolo, vediamo, vediamo, Spagnolo, Spagna, no, Olanda, eccolo il giocatore argentone, eccolo qui, oh benissimo, 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 proprio il peggio del peggio, che poi non mi serve a nulla nel mio 4-2-3-1 Vlap, bene, bene, allora io sfido la sorte, faccio un altro giro, sono un convento che mi beccherò un altro Vlap, però va bene, dopo basta, assolutamente, che sono molto tentato da Suarez, ragazzi, vi devo dire la verità e quindi ci riprovo, vediamo, se vedo Olanda non questo filmato non continuerà perché svengo sicuramente, vediamo, Spagna, attenzione, attenzione, Spagna, attenzione, palla, palla, palla nera, ma non è, non è Suarez, chi è, di chi si tratta, vediamo, era Godin a Capperi, 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 come difensore mi va benissimo, mi va benissimo un difensore centrale da 90, va bene, speravo in Suarez, ma Godin è un'ottima pescata, assolutamente, assolutamente, quindi su due pescate, una è stata eccellente. Bene, andiamo a dare un'occhiata, se c'è qualche novità sul fronte degli allenatori, anche se sapete che non sono tutti uguali, Rui Vittoria, Anticetro, Preus, Inzinga, non ho idea se siano fake o reali, Inzinga è molto divertente, comunque sia se sia un nome vero, sia se non lo sia, andiamo a vedere le sfide di oggi. Allora, Coppa Challenge Online, questa è una coppa in base alla forza della squadra, vediamo un po' di capire meglio, ecco, A, U 1600, U 2003, O 2300, quindi la mia squadra è più over 2300 come livello di bonus, abbiamo addirittura un allenatore per 10, un ESP, scusate, 10 ESP, molto interessante, andiamo a vedere i dettagli da competazioni, una partita, preparatore ESP speciale, 4000 per 10, eh ragazzi, io ci proverò, ne perderò 10, ma l'undicesima ce la farò a prendere, a vincere questa Challenge Cup, è molto interessante perché gli ESP in questa edizione di PES sono molto interessanti. Altra cosa, mi sono dimenticato è l'altro filmato, questa cosa è la crescita dei giocatori in questa maniera con gli ESP e tutto quanto, mi piace molto, questa parte mi piace molto, la gestione del miniclub lo fa diventare sempre più gioco di ruolo. Quindi queste sono le altre Challenge, se state sotto i 1600, se state sotto i 2003, oppure appunto sopra i 2300, c'è questa Challenge molto, 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 molto interessante. E poi c'è la Challenge contro Com, National Teams contro il Boca Juniors, le Elite Challenge, queste sono quelle vecchie, dettagliare la competizione, debattere il Boca Juniors, ovviamente, premio agente speciale Silver più Level 1, 500 GP della seconda vittoria in poi, c'è un bonus GP 1 e 20 e poi c'è questo National Teams, vinci tutte e tre le partite, un classico, diciamo, proprio di delle Challenge contro Com che mi interessano un poco. Io sono davvero molto, molto interessato alla Challenge Cup, davvero la proverò. Bene, un ottimo aggiornamento oggi, direi, anche se il pool, ripeto, è l'unica maniera per prendere le leggende, mi lascia un po' perplesso, comunque un bel sette e mezzo a questo aggiornamento lo do. Vi auguro un buon giovedì festivo, visto che siamo appena all'inizio della giornata e già il filmato è pronto, ci vediamo presto su italiatofgames.it e sul canale omonimo di YouTube Italia Top Games. Ciao e a presto!